Padova Rezzo 2 a 0, alla mezz'ora Claudio Valigi porta in vantaggio la squadra Veneta. Grande l'esultanza della squadra di Di Marzio che comincia a risalire qualche posizione in classifica. Allo scadere dell'incontro c'è un fallo ai danni di Sorbello, l'arbitro esposito di Torre del Greco assegna un calcio di rigore che Sorbi trasforma.